la da la diamond era una collezione di natale della pupa non quella di del 2013 ma quella del 2012 è un ombretto gelé effetto vet and dry io ho preso lo 01 quello color oro questa è la confezione con la cialda questo è l'utilizzo asciutto questo è l'utilizzo bagnato io non vedo molta differenza sinceramente farei due utilizzi per il colore mi piace molto